Già il nome, Agostino Di Bartolomei, punto ed a capo. Diba diventa ad un tratto la chioccia di questa nuova salernitana, una scelta decisa e precisa. Salerno lo ha accolto a braccia aperte, lui dalla A alla C, dalla massima serie e da un recente passato più che glorioso, ai campi invocati della C1. Certo non un declassamento, ma un modo per non dare solo importanza al calcio. Ora la famiglia è a portarlo di mano, finalmente, lui sa di valere ancora tanto, sa di doversi adeguare ad un torneo che non conosce. Di Bartolomei come vive questa avventura in serie C, abituato alle grandi platee del massimo campionato? Con tranquillità, con serenità, anche perché è una scelta mia per cui non ci sono problemi. Ho già detto quando mi sono accordato, per una scelta personale, per una scelta di vita. Perché sto più vicino a casa, sono più tranquillo, vedo di più la mia famiglia. Anche questa è una cosa importante. Ecco, prima di venire qui a Salerno, cosa sapeva di questa salernitana o comunque come ha trovato la città? La città è una città che merita altre platee, soprattutto per il calcio, forse altre attenzioni di altro tipo non ne posso fare. Non è che vivo da poco questa realtà, quando ne sarò un po' più cosciente magari ne faremo qualche altra. La campagna acquisti con tutta la società Granata, cosa mi pare? Io penso che il Presidente abbia fatto dei grandissimi sforzi e speriamo di poterlo ripagare al meglio. Senz'altro, almeno dall'inizio alla fine, dobbiamo partire con la mentalità di vincere e di mettercela tutta per fare bella figura, perché sicuramente è una persona che ha fatto dei grandissimi sforzi.